Un altro schema per quanto mi riguarda conto di continuare a occuparmi della città fino all'ultimo giorno prima delle elezioni, anche perché so di poter contare su una giunta molto compatta e motivata. L'impegno che ho preso con i cittadini riguardava un programma, questo programma dopo tre anni è fatto in una misura che non è confrontabile con il consultivo della precedente amministrazione di centro-destra. Noi in tre anni abbiamo fatto tre volte quello che loro hanno fatto in cinque ed è sugli occhi dei cittadini quello che abbiamo concretizzato. A me pare che faccia un gran polverone, non so se sono preoccupati, potrebbe anche essere. Grazie mille. Grazie.